Salve a tutti ragazzi, sono sempre Redbox e bentornati nel mio canale, siamo di nuovo qui su Totally Accurate Battle Simulator Non so perché l'ho detto in questo modo strano, comunque sono di nuovo qui appunto su questo gioco per fare sempre alcune delle vostre battaglie che mi avete consigliato nello scorso episodio, però voglio andare a testare in questo anche delle mie curiosità che sono sorte nel corso del tempo e la prima curiosità a cui vorrei dare risposta in questo video è quanti tizi con le palle di fieno servono per tirare giù un singolo mammut ci siamo messi in questa mappa tribale e sono pronto per mettere un mammut da questa parte che è la cosa più semplice da fare vediamo quanti ne servono per tirare giù un mammut io direi di partire basso e quindi ne ho messi prima 10 e vediamo se già 10 possono fare qualcosa ho dei seri dubbi a riguardo, in caso passeremo a 20, poi a 30, poi insomma tutti quelli che serviranno per tirare giù un singolo mammut la battaglia è incominciata, i nostri uomini armati di bastone si stanno avvicinando al mammut che li carica prepotentemente e sono stati schiacciati subito andiamo ad aggiungere un'altra fila di hey baller, baller, di palle di fieno ora ne ho messi 20, vediamo se 20 bastano oppure no, ma mi sa che sono ancora troppo pochi intanto guardate come si muovono, hanno anche il caschetto si vabbè, eh vabbè, eh ok, eh ok credo di dover fare direttamente qualcosa di più ho messo questa volta 50 di questi qua con le palle di fieno contro solo un mammut basteranno 50 per far fuori questa immensa creatura si, finchè la, non fanno in tempo neanche a tirargli le bastonate lui cammina tra di loro e li distrugge tutti maledetto, mammut, qua ce n'è ancora uno vivo, due vivi no, c'è ancora qualcuno, no mi sa che dobbiamo andare full madness quindi direi di, eh, prendiamo gli hey baller e facciamo un po' dei disegnini a caso sulla mappa ora laggerà, ma li, no, non sta neanche laggando in realtà cioè, beh, non ha tantissimi frame ma direi che si può, si può guardare e questa volta però hanno vinto cioè se voi circondate un mammut e cominciate a tirare di bastoncini nelle parti basse dove non batte per ovvi motivi il sole forse qualcosa riuscite a fare quindi la mia prima curiosità è stata più o meno risolta cioè ce ne vogliono troppi per fare quest'altra battaglia io sono un attimo curioso perché, secondo me, la penetrazione degli scudi come abbiamo visto più o meno con le frecce nello scorso episodio è fatta abbastanza bene quindi se una freccia colpisce uno scudo rimane lì, però un pochino lo penetra ma cosa succederebbe se la freccia fosse stata tirata da una ballista che ha una potenza penetrativa molto superiore? lo andremo a scoprire in questo momento quindi direi di mettere una singola ballista da questa parte e una fila di scudi allora prima proviamo gli scudi quelli un po' più scarsini che hanno i tizi delle caverne quindi i protector che hanno tra l'altro il buco di cui ho parlato nello scorso video che potrebbe far sì che la freccia passando in mezzo al buco tiri giù una fila più lunga di questi tizi ma comunque proviamo a metterli tutti in fila uno e dieci proviamo prima con dieci vediamo se dieci li riesce a penetrare li riesce a penetrare dieci di questi scudi sette otto no sei sei li ha uccisi con un colpo solo ha distrutto gli scudi di quelli là vediamo adesso se riesce a far fuori anche wow ancora uno è vivo? sei ancora vivo? dai dai ce la puoi fare con quello scudo ce la puoi fare con quello scudo sei più veloce tu di loro sei più veloce tu di loro non era più veloce lui di loro ne mettiamo sempre dieci perché come prima voglio vedere più o meno quanti deve tirarne giù con un colpo solo vediamo questa ballista quanti ok sembra che più o meno sempre sei ah no no stavolta se ne è tirato su un altro quindi ne ha ammazzati cinque ma ne ha colpiti sei vediamo se riescono a fare in tempo a fare qualcosa ho ancora uno in vita dai con lo scudo spingi 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 bravo così ma devi beccare le persone dietro le persone dietro devi beccare andiamo un po' a rallenty guarda guarda lui gli ha schivato il colpo l'ha schivato di pochissimo e ne stanno per tirare un altro guarda come girano guarda come girano vediamo è pronto il colpo? si è pronto lì il colpo stavolta lo colpisce stavolta lo colpisce stavolta lo colpisce red victory non hanno fatto in tempo non hanno fatto in tempo a colpirlo sono morti prima cioè il tizio qua è morto prima non so come perché lui stava solo spingendo la ballista ma dieci sono troppi comunque abbiamo visto che c'è la penetrazione degli scudi questa è una grande figata anche i brawler hanno uno scudo quindi direi di fare la stessa cosa anche con loro proviamo a vedere quanti ne riesce a passare una sola ballista questi sono scudi di legno quindi oh 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 quanti sono rimasti di più eh? ce ne sono cinque proprio in piedi ancora e secondo me hanno la vittoria in pugno eh sì eh sì hanno la vittoria in pugno questi sono un po' più forti però non hanno uno scudo vero e proprio comunque la ballista l'abbiamo vista siamo in un'altra campagna medievale qui per fare altre battaglie e tranquilli che faccio anche quelle consigliate da voi però prima voglio sperimentare un pochino di cose un protettore davanti allo Jarl che è ormai suo un paio di lancia serpenti e un minotauro con il bardo che gli suona una bella canzoncina accanto e contro andiamo a mettergli un sacco di maghi che si trovavano qui nei paraggi nella loro casettina tranquilla qua distrutta gli hanno distrutto tutto e vogliono venire a distruggere anche gli ultimi maghi rimasti che sono qui tranquilli non possono far nient'altro se non aspettare la imminente probabile disfatta però loro non sono soli perché hanno anche un po' di questi spear trower che possono dare una grande mano e un clubber davanti perché si è la loro mascotte vediamo un po' questo esercito organizzato contro questa mandria di tizi preistorici che dovrebbe essersi già istinto ma non è stato così lo Jarl è curato da due preti perché l'altro Jarl è già morto no non è morto è tornato dal mondo delle tenebre lo Jarl guardate come combattono bene i maghi sono abba oh aspetta però sono stati ghiacciati molti maghi gli arcieri che tirano le frecce col ghiaccio guardiamo se questa freccia andrà a colpire qualcuno ha colpito si ed è ghiacciato no ancora non è ghiacciato si adesso è ghiacciato ci sono volute 3 o 4 frecce per ghiacciarlo questo qui è già ghiacciato eh si ogni volta che guardo qualcuno è ghiacciato non credo che abbiano molta possibilità però c'è ancora il bardo che corre in giro suonare la sua musica e non capisco chi sia rimasto in vita ah era rimasto un mago nella sua casetta distrutta e questi qua lo guardavano male hanno ghiacciato anche un loro stesso orcere e poi è stato distrutto vorrei passare alle battaglie consigliate da voi e la prima che mi capita sott'occhio è di Alessandro Principe che mi chiede di fare 50 opliti contro 50 scudi non ha specificato quali scudi volesse quindi credo di utilizzare quelli un pochino più fighi senza buco quindi andiamo a mettere 50 scudi da una parte e dall'altra parte 50 opliti ho messo 50 contro 50 andiamo a vedere questa battaglia rallentiamola un attimo perché mi voglio avvicinare prima guardate che anche loro hanno gli scudi però possono forse infilzarli forse non lo so ok la prima fila si sta scontrando e ora arriva anche la seconda fila quasi sono tutti raggruppati da questa parte per qualche motivo c'è già qualche morto non riesco a vedere si degli opliti morti anche degli scudi morti però gli scudi sono più che altro difensivi non è che facciano più di tanto male sinceramente a meno che non ti tirino lo scudo sui denti e allora si che lo senti e ho fatto una rima involontaria scusatemi davvero la battaglia per il momento sembra abbastanza pari non riesco a vedere esattamente chi sta vincendo ma forse stanno vincendo gli opliti perché di scudi ce ne sono tanti e sono tutti per terra mentre gli opliti bene o male sono ancora tanti in vita e hanno vinto gli opliti Paolo Pinna invece ci chiede di fare degli arcieri serpente contro gli arcieri di ghiaccio perché giustamente sono i due arcieri più strani che ci sono nel gioco quindi direi di provare a fare questo test però li mettiamo un po' strani questi sono gli arcieri serpente li mettiamo un po' qui sulla mappa in modo tale che siano un po' più difesi ne andiamo a mettere anche alcuni qui ok qualcuno su quella casetta uno sulla sua testa ce lo voglio mettere oh ci sono riuscito qualcuno qui qualcuno qua qualcun altro lì uno due qui e una bella file due belle file in mezzo cerchiamo di arrivare verso allo stesso valore adesso un po' anche qui questa volta perché c'è meno spazio da questa parte e però c'è anche questa zona qui tutta bellina secondo me gli arcieri di ghiaccio hanno il vantaggio di avere il primo colpo che fa più danno dei serpenti perché i serpenti una volta che arrivano devono comunque morderti per ucciderti giusto quindi adesso andiamo a mettere più o meno lo stesso valore tra l'altro ce ne vogliono di più sbaglio per arrivare a 19.000 di questi qua di arcieri di questo tipo qua cioè guardate quanti ne ho già messi e non siamo ancora lo stesso valore guarda valore giusto 19.040 19.040 direi che più giusto di così non si può quindi facciamo partire questo dio però no troppe frecce troppe frecce questo devo andare un attimo a rallenty guardate quante cavolo di frecce ci sono oddio e i serpenti poi che fanno cioè oddio guarda questo guarda questo qui no è morto allora le frecce hanno ghiacciato un sacco guarda quante frecce hanno preso quelli della prima fila e questi qua questi qui sopra le mura qua allora questi sono stati ghiacciati ok qua ce ne sono alcuni morti però i serpenti non li raggiungono facilmente almeno se ah no 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 guarda come saltano invece guarda come saltano ok questo qui da solo è rimasto sopra qui e quanto cosa stai aspettando a tirare le frecce ecco gli è apparsa una freccia da magicamente anche se aveva oh no oh no sta cadendo ah no è caduto solo un pochino allora vuoi tirarla una freccia no oh l'ha tirata l'ha tirata e ha colpito ha colpito ok mentre di qua chi c'è rimasto questo qui è quasi ghiacciato è ghiacciato due frecce e si è ghiacciato guardate come casca giù tranquillo nel riposo in pace poverino questo qui è qui che guarda non sta facendo niente ecco questi due qua mi preoccupano un po' perché essendo così nel bordo estremo della mappa secondo me non verranno mai colpiti questa battaglia andrà avanti all'infinito guarda il serpente il serpente ha colpito ha shottato il serpente ha shottato questo qui con un colpo solo e poi si sposta i serpenti sono secondo me più OP perché una volta che hanno ucciso con il colpo diretto i serpenti vanno in giro a fare i loro porci comodi però vediamo se una freccia sola può ghiacciarlo l'ha mancato gli è passato in mezzo alle gambe gli è passato in mezzo alle gambe però guardate quanti ancora ce ne sono di arcieri questi qua perché erano in superiorità numerica però il valore era lo stesso quindi allora qua anche qui ce ne sono un paio che oh questo qua che fa questo qua che sta cadendo no 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 non cadere ma che fa ma guardalo ehi oh ehi è stato colpito ah no 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 ha colpito il terreno e questi qua i serpenti stanno mangiando i cadaveri di questi qui oddio qua ce ne sono rimasti eh vabbè troppi serpenti i serpenti li hanno decimati adesso stanno eh però i serpenti come fanno ad arrivare su questi due qua sopra non ci possono arrivare a meno che non tirino direttamente dei serpenti qua sopra e allora sì ma quei serpenti qua non credo che possano fare qualcosa possono salire lì sopra no 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 se si aggrovigliano e fanno non so uh uh gliene hanno tirati alcuni sopra guarda 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 gli occhi del serpente sono un serpente oh no non l'ha sbattuto giù no no nel pozzo dei serpenti no nel pozzo dei serpenti oddio come saltano no 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 i serpenti sono troppo e vabbè e poi è stato si durato da un serpente proprio guarda guarda come era non so se era felice non ha la bocca hanno l'arco a forma di serpentino con la lingua di fuori vabbè vabbè io direi che per questo video è tutto se vi è piaciuto lasciate tantissimi mi piace in questo momento e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video ciao non è